Ha vetrato Napo Urso capo, più che buono l'allineamento. Alla chiusura, Norton B come quasi dà copione nei confronti di Nahuel, scende il ragioniere con il perghiatto B, punta in avanti il Loveli. Sarà un classico freeway per Morgan Di Nardo, 13.3 il lancio, si presenta Loveli, cavalia al completamento e la piegata, prosegue Loveli Starlight, 400, passa Loveli in 29, Loveli al comando. E ora lunga fila indiana, Loveli, Norton, Nahuel, poi Rampam, poi il 4 di Narcotic e l'uno di Italiano, 600 in 43 e 9. Cavalli che affrontano la piegata, con Loveli al comando, Italiano prende la via del largo e cerca la risalita della comitiva. Mezzo miglio in un minuto abbondante, si viaggia intorno all'1.15 e mezzo, e Italiano si trascina a Rampam e anche Napo Urso capo. E l'Italiano va deciso sull'Oveli, lo attacca il chilometro, se ne va in 15.4, e Italiano sopravanza l'avversario e si trascina a Rampam. Sta passando l'Italiano. Cavalli sulla curva finale, 13.7 di fronto, 1.29 e 2. I tre quarti di miglio, si va al completamento della curva finale, Italiano sollecitato, oi Rampam all'inseguimento, Davide Di Stefano, il suo italiano, non è il giorno dell'otteria, ma è una categoria di accessibilissima. Norton B è secondo e l'Oveli Starlight è terzo. 1.76, 1.58 e 1, 1.13 e 8. Si nobilita questa settima del convegno con un vincitore del lotteria, ma bisogna dare atto e anche i complimenti a Davide Di Stefano, che ha presentato non è l'italiano quello che ha vinto in lotteria, ma un buon italiano, un italiano medio, che si afferma nettamente. 2.51 la sua cosa. Ci voleva ora Toto Cutugno a cantare l'italiano in questa settima del convegno.